Bene, analizziamo questa versione, il cui titolo è Romolo e il ratto delle Sabine, è una storia molto conosciuta, è una versione che si può somministrare ad una prima classe liceale ed i prerequisiti grammaticali sono prima, seconda e terza declinazione, aggettivi della prima classe, i vari complementi e i verbi fino al perfetto, per cui abbiamo tutti i perfetti attivi, quindi presente, imperfetto e perfetto. Dunque, andiamo a leggere. Post reminacem romulus civitatem condidit et romam ex nomine suo vocabit. Questo è il primo periodo. Dunque, cosa faccio quando ho una versione? Sottolineo i verbi. Il primo verbo è condidit, quindi da post fino a condidit abbiamo la proposizione principale. Vado a cercare le congiunzioni o gli elementi che mi indicano o che indicano, che introducono insomma una coordinata o una subordinata, in questo caso et è una congiunzione coordinante copulativa, il verbo è vocabit, abbiamo una proposizione coordinata alla principale, quindi principale e coordinata. Dopo aver individuato il verbo della proposizione principale, vado a ricercarmi il soggetto, condidit et un perfetto, terza persona singolare, un perfetto attivo, da condo, condo condis, condidi, conditum condere, i paradigmi me li ricerco e me li imparo a memoria, mi raccomando, e vado a cercarmi il soggetto, che sarà romulus al nominativo singolare, verbo, soggetto, complemento oggetto. Il complemento oggetto espresso è civitatem, accusativo singolare, da civitas, civitatem, termine della terza declinazione. Quindi andiamo a fare la costruzione della frase, romulus, condidit, civitatem, e poi abbiamo post, necem, remi, post che regge l'accusativo, che è necem, termine della terza declinazione, mi cerco il nominativo in nex, necis, necis è il genitivo, il remi è un genitivo. Quindi, dopo la morte di remon, necem vuol dire morte, romulo fondò, condidit, una città, et, attenzione, bucavit, altro perfetto, terza persona singolare, chiamò Roma dal suo nome, ex piablativo, ex nomine suo. Attenzione, dobbiamo aggiungere il pronome oggetto, e la chiamò Roma dal suo nome. Roma, in analisi logica, è interessante perché si tratta di un accusativo, non è un complemento oggetto, ma è un complemento predicativo dell'oggetto. Perché? Perché segue un verbo appellativo che è vocabit, ha la forma attiva, e quindi è dell'oggetto, se fosse stata la forma passiva, sarebbe stato un complemento predicativo del soggetto. Comunque, andiamo avanti. Moltitudinem finitimorum in civitatem recepit, centum intersegnores legit, eteos senatores nominavit, propter senectutem. I verbi recepit è il verbo della principale, legit è il verbo della coordinata, la principale per asindeto, perché tra recepit e centum abbiamo una virgola, et lo cerchio, perché è una congiunzione coordinante copulativa, quindi che introduce un'altra coordinata, la principale, il cui verbo è nominavit, quindi i verbi che sottolineo sono recepit, legit e nominavit. Andiamo a ricercarci ora il soggetto di recepit, me lo cercherò al singolare, perché si tratta di una terza persona singolare del perfetto di da recipio, recipio, recipis, recepi, receptum, recipere, questo è un verbo a congiugazione mista. Moltitudinem è l'accusativo da moltitudo, moltitudinis, terza declinazione, e poi abbiamo finitimorum, che è un genitivo plurale, di un aggettivo sul vocabolario cerco finitimus, finitima, finitimum. È un aggettivo però sostantivato, se andate in basso, mi raccomando, alla ricerca sul vocabolario, non vi soffermate mai i primi termini, le prime traduzioni, guardate anche gli esempi, dicevo finitim, finitimorum, vi traduce con i popoli confinanti, vicini, e quindi questa è la traduzione, diventa un aggettivo quindi sostantivato. Incivitateme è un complemento di moto a luogo, in più accusativo, il soggetto sottinteso è sempre Romolo. Quindi accolse nella città un numero, un gran numero, moltitudinem, una moltitudine di popoli confinanti, legit è il verbo della coordinata, quindi scelse cento tra i più anziani, intersegnare, scomplemento partitivo, e, attenzione qui, nominavit, eos, senatores, propter, senectutem, questa è la costruzione, e nominò, altro perfetto attivo, terza persona singolare, eos è il pronome oggetto, un accusativo maschile, dai 6, degli nominò, senatori, altro complemento praticativo dell'oggetto, lo trovo infatti in accusativo, propter, senectutem, complemento di causa, ricordo, e qui me lo vado a ripassare ogni volta, perché in latino, ragazzi, è un ripasso continuo, ogni volta che trovo un complemento, me lo vado a ripassare, quindi andrò a vedere il complemento di causa, la causa interna si fa in ablativo, poi propter, più accusativo, si tratta di una causa esterna, e poi mi vado a ripassare pure la causa impediente, e così non me lo scorto più, andiamo avanti, quindi a causa della vecchiaia, questa è la traduzione, tum romulus, qui auxores populus non abebat, invitavit ad spectaculum ludorum vicinas romenaziones, atque omnes virgines rapuit, i verbi, dunque il verbo della principale, attenzione, è invitavit, quindi la principale è tum romulus invitavit, lo capisco perché, innanzitutto perché la proposizione causale introdotta dal quia è messa tra virgole, e poi perché appunto quia è una congiunzione causale subordinante, quindi la cerchio, mi vado a ripassare la causale, vedo che le altre proposizioni che possono introdurre una causale sono anche quad e quoniam, che la causale si fa con l'indicativo, e infatti abebat è un indicativo imperfetto, e quindi andiamocelo a analizzare, abebat dicevo che il verbo della causale imperfetto lo riconosco dal suffisso temporale ba, il verbo che mi ricerco sul vocabolario è abeo, abeo abes, agu i habitum abere, mi imparo il paradigma a memoria, bere con la illunga seconda coniugazione. Qual è il soggetto? Il soggetto è populus, e al nominativo, e uxores è un accusativo plurale, quindi complemento oggetto. Andiamo avanti, ad spettacolo, vedete ad più accusativo, complemento di moto al luogo, ludorum è un genitivo plurale, complemento di specificazione, qui la costruzione è vicina, nazioness, nazioness vicinas Rome, quindi dopo diamo la traduzione accusativo, vicinas nazioness Rome, è un genitivo, adque, attenzione, rapid, omnes, virginies, questa è la costruzione, in cui rapid è un altro perfetto, da rapio, terza persona singolare, omnes, virginies, è un accusativo plurale, complemento oggetto. Ora possiamo dare, una volta fatta tutta l'analisi, la traduzione. Allora Romolo, poiché il popolo, non avevamo donne, scusate, uxores, invitò, allo spettacolo, ludorum dei giochi, chi invitò, vicinas naziones, i popoli vicini di Roma, Rome, atque, e rapii, omnes, virginies, tutte le vergini, questa è la traduzione, mi raccomando. La traduzione si dà sempre alla fine, alla fine, nel momento in cui ho fatto tutta l'analisi logica, del periodo corretta, ho analizzato tutte le funzioni logico-sintattiche, correttamente, alla fine posso dare la traduzione. La traduzione non si impara a memoria, non si legge, si interiorizza, perché viene fuori, scaturisce, da questo processo di analisi, ragazzi. E a me non importa, questo lo dico ai miei alunni, ma lo dico in generale, che mi si dia una traduzione subito, mi importa invece il lavoro di analisi, la traduzione vi posso pure aiutare io, non è, non è in ficia poi la prestazione, l'interrogazione, questo, l'importante è l'analisi. Andiamo avanti, incole, opidorum, circumromam, bellum, proctermagnam, virginum, vinuriam, commoverunt, sed, romulus, victor, evasit, verbi. Dunque, il verbo della principale, lo troviamo in fondo, è commoverunt, e poi abbiamo sed, lo cerchio, come congiunzione coordinante avversativa, evasit è l'altro verbo, quindi saras, da sed, da evasit, una coordinata alla principale. Il soggetto di commoverunt, che è una terza persona plurale, dal verbo commoveo, è incole, appunto nominativo plurale, opidorum è un genitivo plurale, complemento di specificazione, circum è una preposizione che regge l'accusativo, eccolo qua, circumromam, e l'accusativo è bellum, propter regge l'accusativo che è magnam, ignuriam, e poi virginum è un genitivo plurale, complemento di specificazione, quindi la costruzione diretta della frase è incole, opidorum circumromam, commoverunt bellum, propter, magnam, ignuriam, virginum. Dunque, per quanto riguarda il sintagma, aggettivo sostantivo magnam, ignuriam, vi ricordo che gli aggettivi concordano con il sostantivo di riferimento, in questo caso ignuriam, ed essendo ignuriam un accusativo singolare, e femminile, l'aggettivo concorda in caso, numero e genere, appunto con il proprio sostantivo, infatti magnam è un aggettivo femminile, singolare, appunto in accusativo, perché concorda con ignuriam, quindi piccolo ripasso. incole, gli abitanti delle città opidorum circumromam intorno a Roma, commoverunt, suscitarono, mossero, bellum, una guerra, mi raccomando, bellum è un termine importantissimo, frequente, appunto, nelle versioni, è un lessico molto frequente, è un termine molto frequente, bellum è della seconda declinazione, vi ricordo che è un neutro, e quindi vi vado a ripassare la declinazione dei neutri. Quindi, un mostro guerra a causa dell'offesa della ignuriam, della grande offesa magnam ignura, delle vergini. Sed Romulus, ma Romulus, Devasit, perfetto, Devasito, ne uscì, Victor, in funzione predicativa, qui al nominativo, ne uscì vincitore, nominativo, perché si riferisce appunto a Romulus. Andiamo avanti e concludiamo. Postia, Subida tempestas extitit, et Romulus evolavit, Romani in deorum numero, Romulum conglocaverunt, eum nominaverunt, Quirinum, Itaqui, Antiqui scriptores, Romanos, etiam quirites, vocant. Dunque, i verbi, ricerchiamoli, evolavit, no, prima c'è extitit, è il verbo della principale, et lo cerchio, et et volavit è coordinata alla principale, poi abbiamo Romani fino a collocaverunt, altra coordinata alla principale, questa volta per asindeto, perché abbiamo i due punti, non abbiamo una congiunzione, altra coordinata alla principale, eum nominaverunt, e infine, Itaqui lo cerchio, che è una congiunzione coordinante, questa volta conclusiva, vocant, fino a vocant, altra coordinata alla principale. Quindi i verbi di questo periodo, che consta di quattro proposizioni, mi pare, no, di cinque proposizioni, sono extitit, evolavit, collocaverunt, nominaverunt e vocant. Bene, postiam, vuol dire in seguito, è un avverbio. Extitit, il soggetto è subita tempestas, qui subita è l'aggettivo di tempestas, et romulus evolavit, il soggetto di evolavit è romulus, poi abbiamo collocaverunt, il verbo della terza proposizione, che è un perfetto, terza persona plurale, da colloco, prima congiunazione, il soggetto me lo cerco quindi, al nominativo plurale, dai romani, quindi romani, collocaverunt, chi che cosa, mi vado a cercare il complemento oggetto, romulum, in accusativo, in numero deorum, in, va con l'ablativo, in questo caso uno stato in luogo, che è numero deorum, in giro plurale. Andiamo avanti, nominaverunt, il soggetto sottinteso è sempre romani, è un lo complemento oggetto, è un pronome da Issaid, accusativo singolare maschile, qui rinum, complemento predicativo dell'oggetto, ita come abbiamo detto, con una congiunzione, il verbo vocant, il soggetto è antiqui scriptores, in cui scriptores è un termine della terza coniugazione, è antiqui, è un oggettivo della prima classe, è un nominativo maschile plurale, perché concorda con scriptores, vocant romanus, complemento oggetto, etiam quirites, quirites è un altro complemento predicativo dell'oggetto, che troviamo infatti in accusativo. Ora posso andare a dare la traduzione. In seguito, un'acque extitit, un'improvvisa tempesta, subita tempestas, che è il soggetto, e Romolo volò via, le volavit. I romani, collocaveront, collocarono Romulum, Romolo, in numero deorum, nel numero, nel senso, nel novero degli dèi, lo nominarono Quirino, complimento predicativo anch'esso, perciò itaque, antiqui scriptores, e gli antichi scrittori, vocant, chiamano i romani anche Quiriti. Grazie.